Terza fermata Parco San Felice, la mia città respira il tema della tappa di oggi nel polmone verde piombato nel buio e nel degrado sotto gli occhi di tutti. Luigi Miranda sceglie l'anfiteatro impraticabile di notte per raccontare come si può riprendere fiato. Alle sue spalle c'è l'auditorium che doveva essere, lo ricorda, un luogo di aggregazione vandalizzato alla merce dei barbari che l'hanno smontato e distrutto. A due passi c'è il campetto in disuso ma ridotto. Lui immagina una dogare attrezzata, un parco dove le famiglie possano passeggiare anche di sera senza temere per la propria incolumità. Il viaggio del candidato sindaco Luigi Miranda continua nel rione Candelaro, nei quartieri vicini e lui ad andare dai cittadini ad ascoltare le istanze di residenti e commercianti. Nella sua città le periferie sono centrali, nel suo programma rappresentano addirittura il motore dello sviluppo. E una campagna elettorale di porta a porta e inaugurazione di comitati sempre pieni non sarà sfuggito nemmeno agli avversari. Prossima tappa del press tour, il viaggio con la stampa, il 29 aprile in un'altra zona da rianimare, il villaggio Artigiani.